Io ho anche proceduto, secondo i miei poteri commissariali, a escludere quelle opere che presentavano l'offerta al maggior ribasso, perché ovviamente queste quasi sempre nascondono evasione contributiva, evasione di sicurezza sui cantieri o altre situazioni che nascondono infiltrazioni criminali. Come esponente del PDL, volevo sapere come esponente del PDL che deve essere fatta della posizione presa da Formigone in merito alla nomina all'Asla numero 1 di Pietrogino Pezzano. Ci può dare un parere, signor Sindaco, in merito a questa nomina? Signor Sindaco, una battuta sulla nomina di Pietrogino Pezzano all'Asla di Milano. Volevo anche una battuta in merito all'ex Assessore Massari, che ha detto che era diverso dal caso di Berlusconi. Voleva dire che è più grave la vicenda di Berlusconi, signor Sindaco?